Si parte Val di Fleres, giro delle malghe ecco già subito così già subito così Ah no Ehm Ahm Grazie a tutti. Passo. 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 Oh yeah. Passo. 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 il segreto è non guardare giù perché sennò il segreto è un'altra meno male che sono asciutte le radici, se no col cavolo che facevamo questo pezio non è vero Guarda se può ridurre la fronte, eh! Il segreto è lungo a fare il gioco Perché se no... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sono proprio convinto Per il fatto delle batterie E ora sono tutti convinti che dicono È meglio avere due da 500 Se vai a essere sicuro Non devi stare Perché da 750 Ci hanno sempre con il dubbio Andare solo con il dubbio Ah Questo che aveva da 650 Non è più grande Non è più grande E questo è un l'acqua della val di flere stupenda 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 la val di flere nord Grazie. 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 Torco, Dio. Grazie. Ciao. Grazie. E ora si sale alla Malga Furtalm. Quasi quasi arrivati. Vedo la Malga Furtalm. E qua finisce la valle. Da qua inizia il tracciato a piedi sul sentiero per il rifugio Cremona. Rifugio Cremona, poi da lì, per chi vuole, il rifugio Tribulaun. Gran bella zona. Però oggi sembra inverno. Per cui oggi canè dell'imbrada, ragazzi. Niente cose estive. Ok. Ok. Ciao. Inizia inizia. Oh oh. Ah ma c'è anche il nodo con noi Vieta batteria Porca puttana vado qua Eh ma Vieta batteria Vieta batteria Vieta batteria Vieta Vieta batteria Vieta batteria Vieta batteria Vieta batteria Vieta batteria Vieta batteria Grazie a tutti 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 E io seguivo Grazie a tutti 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 Porca porca Grazie a tutti 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 Porca e non è E' molto igienico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti